Allora, non possiamo non parlarvi dell'Eurovision, ci sono molte buone ragioni. La prima è che Emma Sokoma sta per partire, quindi mi lascerà tutta la settimana prossima per andare a Tel Aviv, perché l'Eurovision quest'anno si fa da Tel Aviv. Esatto, per la 64esima edizione dell'Eurovision, io sarò insieme a Federico Russo a Tel Aviv e commenteremo le due semifinali, quindi martedì 14 e giovedì 16, tra l'altro l'Italia può votare dal giovedì 16. Le semifinali è commentato su Rai4 da me e Federico Russo. Allora, sarà un'edizione molto potente, si annuncia, c'è, d'altro che inizia è Madonna, come dire, insomma, e che arriverà lì a presentare questo album. Anzi, arriverà come Madame X, attenzione, e noi ci sarà anche un tifo particolare per noi italiani, perché c'è Mahmood, che devo dire, con la sua Soldi, che è la canzone che ha vinto Sanremo, sapete che per tradizione, anzi no, per regolamento, la canzone può andare all'Eurovision, e devo dire che perché? Perché facciamo il tifo come sempre, ma un po' di più, perché Mahmood ha anche un carattere internazionale, potrebbe piacere molto anche fuori dal nostro paese. Speriamo che funzioni il clap-clap anche per l'Eurovision. Sì, per tutta l'Europa che fa, chissà. Sarebbe bellissimo, l'Olanda è favorita per adesso, ma anche Mahmood si piazza bene, e quindi dovrete aspettare sabato 18 per sapere come andrà. Allora, chissà se porterà fortuna ricordare che l'hanno già vinta Gigliola Cinquetti, una volta nel 64, lei vinse Sanremo e poi andò triunfalmente all'Eurovision, ha vinto Toto Cotugno, c'è stato Modugno, perfino Battiato si è piegato, Battiato che non va da nessuna parte, ma accettò di farlo, andò a cantare i treni di Tozzer insieme alla Alice, pensate. Però Gino, facciamo una considerazione, è meglio, secondo te, andare all'Eurovision con una canzone nella propria lingua o in inglese? Guarda, a me una cosa mi piace dell'Eurovision, è proprio la possibilità che abbiamo e che hanno gli altri rispetto a tutti gli altri, di poter vedere cose diverse, poter vedere cosa accade negli altri paesi, è un'esperienza, è un modo di conoscenza, quindi tendenzialmente mi piace che ognuno canti la sua lingua, devo dire a me, anche se l'inglese è sicuramente più furbo, perché è più accessibile. Esatto, l'inglese secondo me invece è più furbo in una situazione come l'Eurovision, dove uno si fa conoscere proprio all'estero e può magari fare una hit. Però secondo me l'idea di portare la lingua italiana all'estero è sempre bella, quindi io farò il tifo anche per quello. Noi vi ricordiamo che saremo in onda a commentare la finale dell'Eurovision su Radio 2, che è la radio ufficiale appunto dell'Eurovision, Emma Stoccolma, Gio Castaldo, Back to Back Radio 2.